LMDE 6, ovvero Linux Mint Debian Edition. Ecco in cosa differisce dalle altre edizioni di Linux Mint da Ubuntu e da Debian. Vediamo caratteristiche, installazione, test, come aggiornare da LMDE 5 e le mie considerazioni. Ciao da Dario di Alternativa Linux. Riaccomi a parlare di Linux all'aperto e senza telo verde. Nel sito web di Linux Mint la pagina di presentazione e download di LMDE 6 recita il suo scopo è quello di assicurare che Linux Mint possa continuare ad assicurare la medesima esperienza di utilizzo nel caso in cui Ubuntu dovesse scomparire. Ci consente di accertare quanto dipendiamo da Ubuntu e quanto lavoro sarebbe richiesto in uno scenario simile. LMDE è anche uno dei nostri obiettivi di sviluppo perché garantisce che il software che sviluppiamo sia compatibile al di fuori di Ubuntu. LMDE è infatti una distribuzione GNU Linux proposta con l'ambiente desktop e alcuni programmi della concomitante più aggiornata edizione Cinnamon. La sua base di pacchetti non è quella di Ubuntu LTS ma quella di Debian stabile, a differenza di Ubuntu che preferisce lavorare sulla versione unstable. La ISO definitiva di LMDE 6, nome in codice FEI, è del 22 settembre 2023 ma l'ufficialità è arrivata il 27 con un consueto post di presentazione nel blog. LMDE è usata da una minoranza degli utenti di Linux Mint. In molti mi lasciano commenti nel blog qui nel canale YouTube e si dicono felicissimi di una solida base Debian senza contributo di Ubuntu ma con la mediazione e l'estrema semplicità che ha reso Linux Mint così popolare tra i principianti ed inesperti di Linux. Il team di Linux Mint chiarisce che non intende fare concorrenza alle altre edizioni con LMDE ma che il progetto risulta strategico per garantire a Linux Mint e ai suoi utenti un futuro senza dipendere da Ubuntu e dalle scelte di Canonical, l'azienda che lo rilascia. L'aspetto di LMDE è assolutamente identico a quello della sorella Cinnamon basata su Ubuntu e infatti i requisiti hardware di Linux Mint e Debian Edition 6 sono i medesimi delle versioni 21 di Linux Mint. Almeno 4 GB di RAM, 100 GB di spazio su disco e risoluzione schermo non inferiore a 1024x768 pixel. LMDE 6 dispone infatti della versione più aggiornata proprio di Cinnamon e del file manager Nemo. Ci sono tutti i programmi tipici come Timeshift, Warpinator, Hypnotics, Pix nelle ultime versioni disponibili agli utenti delle altre tre edizioni. Consiglio di consultare la recensione di Linux Mint 21.2 per tutte le novità legate ai programmi e all'ambiente desktop Cinnamon 5.8. Rispetto alle edizioni principali e a Ubuntu, LMDE, come Debian, prevede ancora una versione per architetture a 32 bit. A LMDE però mancano parti che l'edizione Cinnamon prende dalla base di Ubuntu LTS. Anzitutto in LMDE 6, tra le origini software, in luogo di un mirror dei repository di Ubuntu 2204 LTS, ne avrai uno di Debian 12 Bookworm. E include tutte le sezioni degli archivi main, contrib, non free e non free firmware, oltre a quella principale di LMDE 6 FEI, rispettando pienamente le novità introdotte in questo senso da Debian 12. Questo comporta anzitutto che differisce il programma di installazione. LMDE adotta Calamares, tipico di Debian e tante altre distribuzioni GNU Linux, anziché quello di casa Ubuntu Ubiquiti. Il programma di installazione di LMDE può risultare meno semplice per un irreesperto rispetto a quello di Ubuntu nel caso si desideri affiancare Linux ad un precedente sistema operativo in un cosiddetto dual boot, cioè con la possibilità di scelta all'avvio del computer. L'installazione di LMDE, come quella di Debian, infatti non effettua un controllo sui sistemi operativi eventualmente già presenti nel PC e non consente l'affiancamento automatico con il ridimensionamento rapido di un disco già occupato. Con LMDE puoi scegliere di destinare un intero hard disk al sistema operativo, oppure sei invitato a gestire manualmente le partizioni necessarie per l'installazione del nuovo sistema. Più avanti faccio vedere come l'ho installato in dual boot. Un'altra differenza tra LMDE e Linux Mint è l'assenza di un'apposita applicazione per la gestione e applicazione di driver proprietari, ma è sufficiente cercare in gestore applicazioni il pacchetto Nvidia driver ed installarlo. Si ovvia così senza alcuna app dedicata. Riavvia al termine dell'installazione e trovi poi nel menu anche l'applicazione grafica per le impostazioni Nvidia. Faccio presente che il driver Nvidia per LMDE 6 è quello dei repositori Debian 12, il più aggiornato al momento il 525. Linux Mint Cinnamon però si affida ai repositori di Ubuntu e installa il 535. Ma puoi sempre scaricare l'ultimo disponibile dal sito Nvidia. Fai riferimento alla documentazione Nvidia o anche alla pagina dedicata nel sito Debian per ulteriori informazioni. Il rilascio di Debian 12 con l'inclusione di driver e firmware non free ha semplificato molto l'accesso del sistema operativo agli inesperti, accrescendo la totale compatibilità hardware già a fine installazione. In questo senso LMDE già nelle versioni precedenti ovviava questa limitazione di Debian, prevedendo l'installazione immediata di pacchetti software non open source che però garantiscono il funzionamento di touchpad, tastiere, connessioni di rete, spesso senza alcun intervento. Ma le differenze più importanti tra LMDE e le sorelle su base Ubuntu vanno ricercate nelle versioni di kernel e dei pacchetti software presenti nei rispettivi repository. Linux Mint Cinnamon prevede un rilascio cosiddetto maggiore nell'estate degli anni pari. Linux Mint 21.2 adotta attualmente come predefinito il kernel 5.15 con cui Ubuntu 2204 LTS è stato rilasciato e ospita nei propri repository programmi software nelle versioni che furono scelte e per così dire congelate per questo rilascio. LMDE 6 su base Debian 12 in questo momento ha un kernel 6.1 rilasciato in dicembre 2022. Questo garantisce ampio supporto per hardware più recente. In Mint 21.2 dopo l'installazione puoi applicare anche un kernel 6.2 se il tuo hardware recente lo richiede. Ma mentre scrivo viene testata una nuova versione Edge di Linux Mint 21.2 che monta direttamente il kernel 6.2 per l'avvio della sessione live nei PC con hardware più recente. L'edizione Edge di Linux Mint adotta esclusivamente il desktop Cinnamon. Questa situazione può avere importanti conseguenze. Un sistema operativo con un kernel più recente può comportare problemi su hardware molto datato. Ma è anche vero che con un kernel più nuovo è più facile che sia sopportato hardware più recente. Ed è anche più facile trovare programmi in versioni più nuove con miglioramenti e nuove caratteristiche. Tieni a mente questo dato a seconda dell'età del tuo computer e se hai esigenze particolari quanto alle versioni dei programmi che ti interessano. Un'altra notevole differenza di LMDE 6 rispetto alla versione 5 risiede nel fatto che viene adottato Pipewire come server audio predefinito in luogo di Pulse Audio. Questo dipende dal fatto che Debian 12 ha sostituito il server audio predefinito, ma anche Linux Mint 21.2 in estate aveva introdotto la medesima novità. Ho avviato questa recensione di LMDE 6 indicandola come il piano B di Linux Mint. La base Debian di LMDE è ovviamente la ragione di questa definizione. Ma lo è perché il team di Linux Mint, pur continuando a mantenere la base Ubuntu sulle edizioni principali, non di rado ha fatto scelte divergenti da quelle di Canonical che rilascia Ubuntu, applicando anche drastici correttivi. Mi riferisco in particolare alla mancata adozione da parte di Linux Mint in tutte le edizioni dell'App Store Snap di Ubuntu, colpevole di violare pesantemente la privacy degli utenti senza informarli che installare un pacchetto Snap significa sottoporre il proprio sistema operativo, anche non Ubuntu, al controllo di Canonical e delle tecnologie proprietarie e non open source dei suoi server. Ebbene, notizie sulle prossime versioni di Ubuntu parrebbero confermare una centralità di Snap che potrebbe diventare addirittura l'unico meccanismo per l'installazione di programmi in Ubuntu e derivate, scavalcando di fatto APT e la sua natura di derivata Debian. Clem, responsabile del progetto Linux Mint, nel post di luglio 2023 spiega «Stiamo tenendo d'occhio Ubuntu, la sempre maggiore centralità di Snap, la qualità della loro base di pacchetti per la versione 24.04 per capire se andare avanti su questa strada». Parole davvero pesanti. Nel post di inizio agosto 2023 Clem ringrazia e tranquillizza i propri utenti, specie quelli di LMDE e aggiunge «Raramente ci lasciamo coinvolgere da decisioni prese a monte da altri. Quando succede, o anche solo corriamo il rischio di esserlo, siamo in grado di investigare e mitigarle per raggiungere i traguardi da noi voluti. Ecco perché abbiamo già qualcosa come LMDE, indipendentemente dal fatto se ne abbiamo bisogno oppure no. Non fatevi prendere dal panico. Noi sappiamo chi siamo e sappiamo cosa stiamo facendo». Ho già accennato con la recensione di Linux Mint 21.2 che sto preparando un articolo ed un video per spiegare meglio il meccanismo di Snap e ne riparlerò presto quindi. Adesso veniamo alla mia esperienza con l'installazione e l'utilizzo di LMDE 6. Ho scaricato la ISO ufficiale dell'edizione a 64 bit, verificato la firma e l'integrità con l'utilità di verifica di Linux Mint. Ho preparato la chiavetta ed associato LMDE 6 a Linux Mint 21.2 nel mio PC fisso. Il desktop nella sessione live è identico a quello di Mint 21.2. Stesso tema Cinnamon predefinito, niente icone, tutti o quasi gli stessi programmi nel menu. L'avvio dell'installazione mostra le differenze con Ubiquiti, programma a cui è devoluta l'installazione del sistema nelle edizioni Ubuntu. Viene omessa la rilevazione di altri sistemi operativi e l'automazione nell'affiancamento. Ho quindi dovuto scegliere il partizionamento manuale. Calamares mostra dischi e partizioni presenti, ma consente anche l'avvio di GParted, programma per la gestione di partizioni presente nelle sessioni live di tutte le edizioni di Linux Mint. Da qui ho ridimensionato la partizione EXT4 di Linux Mint lasciando circa 100 GB di spazio non allocato per LMDE 6. Ho modificato lo spazio libero, formattandolo EXT4 ed impostandolo come partizione root primaria. Non ho creato ulteriori partizioni facoltative e al momento dell'installazione del bootloader l'ho posizionato nella partizione EFI che già ospita l'avvio di Linux Mint 21.2. Se non lo conosci dai un'occhiata al mio video come installare Linux Mint con partizioni manuali per ulteriori informazioni o se hai intenzione di creare più partizioni. I principi sono i medesimi. I tempi di installazione sono addirittura più rapidi della sorella su base Ubuntu perché hanno richiesto meno di 5 minuti in tutto prima del riavvio da disco fisso. E il primo avvio da hard disk mi pare fulmineo. La schermata di benvenuto di Linux Mint mi invita alla configurazione di base. È molto evidente l'assenza del passo relativo all'applicazione di driver proprietari perché manca in LMD e l'applicazione gestore dei driver. Anche l'utilità rapporti di sistema che al primo avvio suggerisce l'integrazione di traduzioni, codec multimediali e l'invito alla pianificazione di backup di sistema con Timeshift non suggerisce interventi su eventuali driver proprietari come avviene in Linux Mint Cinnamon. I lavori di correzione di problemi non si arrestano certamente con il passaggio dalla versione beta 2 a quella definitiva, per cui metti in conto di scaricare fino a qualche centinaio di megabyte di aggiornamenti a seconda di quando installi LMDE. Terminati gli aggiornamenti e una configurazione minima esploro il menu e trovo tutti i programmi che mi aspetto di trovare in Linux Mint nelle stesse versioni. Tra essi troviamo però LibreOffice nei repository Debian in versione 7.4.4 invece che la 7.3 dei repository Ubuntu di Linux Mint. Troviamo anche Firefox 117 appositamente compilato dal team di Linux Mint per i propri utenti, che in questo differisce da Debian 12 che ha optato per una versione 116 ESR, cioè con supporto esteso. Se vuoi verificare in anticipo quale versione di un pacchetto sia presente tra differenti versioni di Linux Mint, verifica la pagina web packages.linuxmint.com. Gestore applicazioni risulta identico con le medesime novità e con l'integrazione nativa dei pacchetti FlatPack di FlatHub. Questo aspetto, come il Linux Mint 21.2, rende il primo popolamento di contenuti più lento che in precedenza in gestore applicazioni. In associazione alle versioni di software presenti nei repository Debian e Mint o al formato portabile HappyMage per i programmi che lo prevedono nei rispettivi siti web, le possibilità di installare programmi in versioni anche recentissime non subiscono alcuna limitazione in LMD6 rispetto a Linux Mint. L'impegno di risorse che ho verificato con Htop mi pare in linea con quello dell'edizione su base Ubuntu, anche inferiore ad un gigabyte di memoria RAM durante l'inattività. Estrema fluidità in un computer comunque recente, potente e dotato di SSD di ultima generazione. Posso quindi confermare che l'esperienza d'uso di LMDE è davvero identica a quella dell'edizione Cinnamon. Se sei utente di LMDE 5 ELSI, sei invitato ad aggiornare il tuo sistema a LMDE 6 in tempi brevi, perché il team di Linux Mint abbandona il supporto della versione precedente di LMDE nel giro di 4 o 5 mesi dal nuovo rilascio. È infatti irrilevante per LMDE il lavoro del team LTS di Debian, che garantisce supporto a Debian 11 fino a giugno 2026. Per fortuna, proprio in primavera 2023, il team di Linux Mint ha messo a punto uno strumento di aggiornamento tra le versioni 4 e 5 di LMDE simile, solo nell'aspetto, a quello tra versioni delle edizioni su base Ubuntu. Tale strumento è stato riadattato per il passaggio dalla versione 5 alla 6 ed è già disponibile per il download in LMDE 5. Le istruzioni per effettuare l'aggiornamento da LMDE 5 a LMDE 6 sono infatti già pubblicate nel blog alla stessa data del rilascio. Aggiorna la cache dei pacchetti nel terminale con apt update e poi installa lo strumento di aggiornamento con apt install mint upgrade. Avvia lo strumento con sudo mint upgrade e segui le indicazioni che ad oggi non sono ancora del tutto tradotte. Dal menu dello strumento puoi entrare nelle preferenze e se vuoi correre il rischio puoi saltare lo snapshot di sistema obbligatorio che consente il ritorno a LMDE 5 in caso di problemi. Ricorda che si tratta di un rilascio maggiore e che l'aggiornamento potrebbe richiedere addirittura ore per il completamento. Al termine dell'aggiornamento dovrai prima disinstallare lo strumento con apt remove mint upgrade e poi riavviare il computer. Quindi perché scegliere LMDE oppure no? O meglio, a chi consiglio LMDE? Anzitutto la consiglio agli utenti di Linux Mint che desiderano un sistema operativo su base Debian senza la mediazione di Ubuntu. La consiglio anche agli affezionati a Linux Mint che hanno appena rinnovato il computer e che grazie al kernel 6.1 di LMDE potrebbero non incontrare alcuni problemi legati al kernel 5.15. LMDE 6 con il suo kernel 6.1 nativo è una soluzione valida non meno che ricorrere all'edizione Edge di Linux Mint con il kernel 6.2 o all'installazione successiva di tale kernel dall'apposita utilità all'interno di gestori aggiornamenti per Linux Mint 21.2 Cinnamon. LMDE 6 FEI si posiziona tra le distribuzioni cosiddette a rilascio fisso con base Debian. Quindi direi che le alternative sono i sistemi operativi dalle stesse caratteristiche. Agli utenti indecisi tra Debian 12 Cinnamon e LMDE 6 mi verrebbe da consigliare quest'ultima perché l'esperienza desktop di Cinnamon 5.1 all'interno di Mint è significativamente più gratificante di Cinnamon 5.2 senza alcuna stilizzazione come previsto da Debian 12. Sulla base di quanto detto finora si può affermare che LMDE sia però anzitutto una valida alternativa ad Ubuntu e alle proprie sorelle che pur senza Snap adottano comunque la base Ubuntu. LMDE è forse in concorrenza anche con MX Linux e vista la popolarità di MX Linux ne potrebbe soffrire. Gli MX Tools non hanno equivalenti e possono fornire ad un principiante esigente di Linux software dotati di interfaccia grafica non presenti altrove. Per contro l'esperienza con il desktop Cinnamon e i programmi di Linux Mint possono far preferire LMDE ad utenti che non hanno esigenze di amministrazione di sistema avanzate. Sempre sul piano delle derivate Debian si posiziona Q4OS particolarmente orientato alla leggerezza specie con il desktop Trinity in luogo di KDE Plasma. C'è anche Peppermint OS con la sua base mista Debian DevOne privo del sistema di inizializzazione SystemD. Ma si deve citare anche Deepin 23 con uno scintillante desktop DDE, programmi e caratteristiche d'avanguardia, una grande comunità ed uno spirito open source in linea con i principi di Debian. Parlerò presto anche di Deepin 23 che sta concludendo la sua fase beta. Per concludere, tu hai mai provato LMDE in precedenza o pensi che potrebbe interessarti? Fammelo sapere nei commenti. Potrebbe interessare a qualcuno che conosci? Condividi la mia recensione. E se sei già un utente soddisfatto di LMDE, non esitare a dare a me e agli altri lettori informazioni pertinenti ed interessanti che potrai anche integrare nel post dopo la pubblicazione del video. Ti ricordo infine le playlist del canale, dove trovi organizzati solo i precedenti video ancora attuali che mi sono costati tanto impegno. Poi il blog alternativa linux.it, che ad oggi ha un traffico sei volte superiore a quello del canale YouTube, non ospita pubblicità e dove Google e le sue statistiche non sono gradite. Infine i miei testi, che trovi nelle librerie digitali e presto in quelle fisiche. L'elenco lo trovi su alternativa linux.it slash libri. Grazie per la visione e a presto. Grazie a tutti.